Un caro saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo per questo mercoledì. Una veloce perturbazione atlantica sta attraversando in queste ore l'Italia, ma pian piano si dirige verso sud-est e di conseguenza avremo già un graduale miglioramento a partire dai settori più occidentali, che sarà ancora più evidente questo mercoledì, quando tornerà splendido del sole, praticamente su quasi tutto il centro-nord le ultime piogge invece coinvolgeranno il meridione, soprattutto il basso adriatico e il medio-basso terreno. Per quanto riguarda l'Abruzzo, una giornata molto più stabile, le ultime nuove, gli ultimi densamenti abbastanza minacciosi interesseranno le aree costiere, specie quelle più a sud nelle prime ore del mattino, poi spazio al sole in giornata direi su tutta la regione. Le temperature più basse rispetto ai giorni scorsi, le massime tra i 14 e i 19 gradi, più freddo di notte all'alba minima e fino a 6 gradi sull'Aquila, tra i 12 e i 15 gradi altrove. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo appuntamento, sempre qui su TV6.